Il dramma della guerra cento anni fa come oggi, la storia che si ripete il primo conflitto che insanguinò l'Europa e oggi quello in Ucraina, un elmetto come simbolo della grande guerra del Museo Internazionale delle Guerre Mondiali di Rocchetta al Volturno. Iniziativa a Ferrazzano organizzata dall'Associazione Cavalieri di San Biase con Antonella Struzzolino e con il patrocinio del Comune a Palazzo Chiarulli. Il ricordo che scuote, una mostra di foto in bianco e nero di Marisa Pia Boscia. Ho raccontato luoghi del Modise con il sentimento della rimembranza che coglie le persone che sono affezionate ai defunti. Il filo comune è nella grande guerra. Il saluto del sindaco Antonio Cerio e il suo messaggio sull'importanza della difesa della democrazia. Toccanti le lettere del contadino soldato Giuseppe Serpone, morto nelle battaglie su Lisonzo. Nel 1917 a 23 anni 150 lettere per l'amata moglie e il padre ritrovate per caso dalla pronipote Anna Falcone in un armadio ed esposte a Palazzo Chiarulli. L'ultima inviata a casa il giorno dopo la morte di Giuseppe, il cui corpo per quasi un secolo è stato nel cimitero di Caporetto dove lo ha poi ritrovato proprio Anna. Raccontava la vita al fronte per quanto possibile sia riguardo alla moglie che al padre. È chiaro che nelle lettere io ho colto delle emozioni molto differenti. La moglie veniva più tutelata da questo ragazzo quindi a lei non veniva raccontato proprio tutto quello che accadeva. Mentre invece Giuseppe al padre raccontava la vita al fronte, le difficoltà della guerra, il freddo di quelle montagne così alte. Toccante anche la drammatizzazione di una lettera interpretata dagli attori della Compagnia Stabile del Molise. Che siamo giovani di 20 e 22 anni, dobbiamo morire lo stesso. L'applauso finale per loro in ricordo di chi li ha sempre guidati, Paola Cerimele. Da segnalare anche la collaborazione dell'Associazione Culturale La Mantigliana. Le due mostre resteranno aperte fino al 13 ottobre. Al Teatro del Loto Attilio Lattes, autore del libro Il bambino nascosto a Roma e guida del Museo Ebraico di Roma, ha dialogato con Rosanna Fanzo per offrire la sua testimonianza sulla Shoah e su quel bambino che era lui. Il bambino nascosto a Roma che si è salvato insieme ai suoi genitori sono proprio io. Avevo due anni, poco meno. Come mi sono salvato? Posso dire solamente dentro le fogne di Roma, che non è stata certamente una cosa piacevole e successivamente per merito di tantissima gente. Perché dobbiamo dire che in Italia almeno il 65-70% delle persone ha tentato e salvato tanti di noi, non solamente ebrei, io sono di regione ebraica, ma anche oppositori del regime. All'estero questo non è avvenuto.